Senza i volontari il mondo sarebbe di gran lunga peggiore. Sembra scontato, ma la portata del volontariato in Italia e non solo è talmente consistente da risultare quasi vitale. Solo nel nostro paese si contano 6 milioni di persone. La maggior parte ha più di 55 anni. Solo il 2%, circa 100.000 persone, si occupa di cooperazione internazionale. La parte restante si dedica prevalentemente all'azione sul territorio. Senza solidarietà, senza volontariato non c'è futuro. Se non ci fossero questi 6 milioni di persone? Sarebbe un'altra l'Italia. Bisognerebbe ripensarla perché ci sono tutta una serie di risposte che il volontariato dà e che il paese, anche avendo soldi, non sarebbe in grado di offrire. Per questo è utile incentivare i volontari e, perché no, premiarli. Come fa da 26 anni la Federazione Organismi Cristiani per il Servizio Internazionale Volontario. Quest'anno il Premio Internazionale se l'ha giudicato Gian Paolo Lunghi, un ragazzo italiano che in Etiopia aiuta le donne nella loro difficile posizione nel mondo del lavoro. Quello invece dal sud del mondo l'ha vinto Herman Graffiano Posso, agricoltore colombiano che rappresenta una comunità di persone che hanno deciso di sottrarsi alle logiche della guerriglia interna al suo paese. Per questo vive sotto scorta. La nostra è una storia dura e dolorosa. Io stesso ho subito lo sterminio dei miei familiari. Nella comunità di pace siamo come una grande famiglia. La nostra strategia è stata quella di non prendere parte al conflitto, di non dare informazioni a nessuna fazione armata. La comunità nasce dalla disperazione, dalla fame e dalla tortura. Mi chiedete se valga la pena di vivere sotto scorta. Vi rispondo che la cosa importante per me è poter lottare per la vita e morire per qualcosa, anziché morire per niente. Morire per qualcosa che non morire per niente. Ho 32 anni, sono di Foggia e sono lì ad Addis da circa poco più di un anno e mezzo. Sono venuto a ritirare questo premio. L'argomento che tocchiamo con le nostre progettazioni è di estrema attualità, che è la migrazione e la tutela dei diritti lavorativi delle donne e delle persone svantaggiate. In particolare con una progettazione sosteniamo le lavoratrici domestiche nella ricerca e nel riconoscimento di un lavoro dignitoso. Dignitoso significa regolato da una legge, quindi con diritti e doveri che dia l'opportunità a queste donne che oggi non sono tutelate, quindi sono esposte a abusi e violenze rispetto a quella che potrebbe essere invece una professione dignitosa che può dare un futuro a tantissimi ragazzi in Etiopia.